amici di auto digest ho trovato la yeti la donna delle nevi la versione che proviamo noi oggi ha la trazione anteriore l'ottimo motore volkswagen 16 105 cavalli in un allestimento green light quindi più ecologico in realtà la skoda yeti è un crossover molto cittadino perché per le nevi c'è la skoda yeti 4x4 su strada la yeti rivela tutta la sua parentela con il gruppo volkswagen è confortevole le sospensioni assorbono molto bene l'asperità la tenuta di strada è buona e si viaggia con una bella sensazione di sicurezza in più il motore 1.6 turbodiesel da 105 cavalli è davvero brillante soprattutto in basso e le prestazioni sono assolutamente soddisfacenti la yeti per una è l'ideale perché funzionale pratico originale è anche molto spaziosa e quindi è una via di mezzo una buona soluzione tra un crossover e una monovolume e guardate la laggio lontano la yeti che linea come originale anche se non ha incontrato la simpatia di tutti merita di essere capita però semplare molto accessoriato non fa rimpiangere nulla del segmento superiore perché al navigatore alla telecamera per i parcheggi al cruise control ai comandi comunque al volante e poi e poi c'è che sciccheria alcantara manca però la presa usb su cui siamo abituati su moltissime auto infatti ho controllato veramente dappertutto anche qui dentro ma non l'ho proprio trovata e il mio telefonino ahimè è scarico il bagagliaio è grande anzi grandissimo ma guardate un po questo cesto che è comodissimo per per la spesa per mettere dei materiali delle cose che non devono traballare non devono muoversi mentre si sta guidando ovviamente il consumo poi è basso si fanno facilmente 18 chilometri con un litro e mai meno di 15 se si va forte lo sterzo leggero un cambio a 5 marce ben rapportato infine completano il piacere di guida